La ciusa è avuta tramite un'amica, marito sai a pallello la ciusa, l'invito come l'ato non l'è avuta, questa so cosa che non sanno fa. La ciusa è avuta tramite un'amica, marito sai a pallello la ciusa, la ciusa è avuta tramite un'amica, marito sai a pallello la ciusa, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.